Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi voglio parlarvi di un trattamento beauty che io faccio spesso sulla mia pelle con la quale mi ci sto trovando veramente molto molto bene Si tratta di uno scrub per il viso e una maschera Allora, questa tipologia di scrub e di maschera per il viso è adatta ad una pelle spenta, opaca e soprattutto un trattamento anti-age Quindi partiamo subito! Partiamo dello scrub viso che è facilissimo da realizzare Vi occorrerà praticamente dello zucchero bianco quindi un cucchiaino di zucchero bianco un cucchiaino di caffè e uno o due cucchiaini di olio di cocco Mescolate bene il tutto e applicate sul viso leggermente in unidito Massaggiate per qualche minuto dopodiché risciacquate Questo scrub aiuterà non solo ad eliminare cellule morte ma dare una maggiore lucentezza al vostro viso a risvegliare, quindi a tonificare la pelle grazie alla presenza della caffeina e grazie alla presenza dell'olio di cocco vi darà una luminosità alla pelle e soprattutto la idraterà tantissimo quindi ve lo straconsiglio se avete appunto problemi di pelle spenta, pelle secca e via dicendo oppure avete comunque una certa età e volete dare un tono maggiore alla vostra pelle quindi uno scrub anti-age perfetto Passiamo alla maschera riso anche questa super super facile vi occorrerà dello yogurt bianco possibilmente naturale un cucchiaino di miele e se ce l'avete ma non è indispensabile dell'amla anche questa ottima per dare lucentezza alla pelle spenta se non avete l'amla potete tranquillamente utilizzare la curcuma che potete trovare al supermercato dopo di questo trattamento la vostra pelle sarà super morbida e più luminosa provatelo e fatemi sapere questo era il mio piccolo trattamento di bellezza spero che il video vi sia piaciuto se vi piace questa tipologia di video mi raccomando fatemela sapere nei commenti se volete dei consigli per una bella particolare cercherò appunto di realizzare dei video per voi spero tanto che il video vi sia piaciuto quindi vi raccomando lasciatemi un bel pollice in su iscrivetevi al canale se non siete iscritti a tutti i miei social io vi mando un grosso bacio ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao